Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, una giornata di mercoledì ancora tranquilla sul mediterraneo perché ci sarà l'alta pressione con un po' di sole e temperature oltre le medie del periodo. Difatti guardate come l'assenza di fenomeni favorirà una giornata di bel tempo ma dalla serata i primi temporali in arrivo sulle Alpi Occidentali in vista di un cambiamento in arrivo nel corso di giovedì. Ma intanto andiamo alla prossima grafica, ci fa vedere cieli sereni o al più poco nuvolosi sin dal mattino, in giornata invece inizierà ad aumentare la nuvolosità sulla Sardegna e poi sul medio alto versante tirrenico. Andiamo alla prossima grafica, giornata per lo più buona soprattutto sulla parte orientale, qui il sole, non mancherà un po' di variabilità come vi dicevo in arrivo da ovest e appunto dalla serata qualche focolaio temporalesco Alpi Piemontesi, Valle d'Osta. Guardate le temperature, potremo superare i 30 gradi non solo al nord ma anche sui settori tirrenici. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo.